Buon anno che si viene! Corchiamo il tuo, è come una ragazza che devono... Ma l'hai già andato? Eh sì! Come si fa? Fuoco Vai Grace 80 kg 80 Grande Grace Sì Sarà bene 1 Fammi foto, fammi foto Ok 2 3 4 5 6 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1